La scrittura si trova a mezza via tra talento e artigianato, ci vuole applicazione e impegno. Così lo scrittore bolognese Enrico Brizzi ha presentato l'iniziativa Palestra di scrittura di viaggio, un corso di scrittura organizzato in collaborazione col Comune di Rimini e con Italica Edizioni. Facendo un paragone con lo sport, anche nella scrittura, serve allenamento, perché se pensi che i testi vanno bene alla prima stesura per essere pubblicati, sei lontano dalla stessa scrittura. Un'esperienza che giunge a Rimini dopo quella bolognese dello scorso dicembre e che già a pochi giorni dal lancio ha esaurito tutti e dodici i posti disponibili. La palestra di scrittura di viaggio proprio a Rimini sta nel fatto, credo, che da un lato Rimini è la capitale del fantastico in Italia, in molti sensi diversi, e dall'altro c'è una grande apertura da parte dell'amministrazione, della società, dell'attitudine dei riminesi verso questo genere di attività. Quindi le speranze che abbiamo è quello di riuscire a mettere insieme una buona squadra di persone disposte ad allenarsi con noi per imparare a raccontare nuovamente la propria vita, i propri viaggi, e in particolare a fare un nuovo racconto su Rimini stessa, come capitale della cultura popolare italiana. L'idea di costruire in un luogo della nostra città una vera e propria palestra di scrittura per far crescere e allenare dei nuovi talenti italiani, dei cervelli italiani, dei giovani scrittori italiani. L'idea di una città che si mette in gioco, che non respinge ma accoglie. L'idea è quella di far incontrare anche degli scrittori noti con degli scrittori in erba, fargli vivere momenti di vita quotidiana della nostra città, per poi magari domani vedersi restituito anche un racconto che ha avuto come grembo, come luogo in cui poteva nascere appunto la nostra città. Grazie. 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 Grazie.